Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma, 5 km di coda per lavori tra Barberino e Calenzano, 4 km di coda per incidente tra Incisa Reggello e Arezzo. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPILI tra Montelupo ed Empoli Est chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni con chiusura dello svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Per questo motivo un km di coda in direzione Firenze tra Empoli e Montelupo e tra Ginestra ed Empoli Est in direzione Mare. Per traffico intenso code in uscita all'astra a segna in direzione Mare. Ralentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci in direzione Firenze. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!